Abbiamo avuto anche questa mattina un incontro, presto verranno prese da parte del governo anche delle misure di salvaguardia sia per quanto riguarda i lavoratori che per quanto riguarda le attività imprenditoriali e commerciali che stanno subendo un danno dalla situazione in questione. Io sono moderatamente fiducioso nel fatto che le cose possano andare verso un miglioramento graduale ma credo che veramente ci siano tutte le condizioni per poter assicurare i nostri cittadini. Credo che sia compito e dovere da parte di tutti noi andare in questa direzione e cercare di far contare che si deve collaborare tutti insieme per arrivare alla soluzione di questo problema.